Io dovrei ritornare là di nuovo eh, però non lo so. Cioè devo trovare altre due casse e poi forse mi andare da voler. Posso dire una cosa che non vedo l'ora che tolgano sto ghiaccio? Non è poco ruolo. Uh, no! Non ci credo. Angelo sei pazzo. Ti stai per suicidare. Ok. Quello me lo prendo va. Ok. Ho fatto la mia missione. C'è qualcosa, lo volete? Il camion. Però vi do esattamente 5 secondi. Andate 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 andate. 3 2 1 Vai! Sì. Allora a me mancano... C'è un... C'è un... C'è un tizio qua. C'è un tizio qua. C'è un tizio qua. C'è un tizio qua. Ah ma forse mi manda le tizio qua. No. Mi l'ha dato un'bomba. Questa non era stato una malezza. No, salvo Forse più dietro la rena Ok 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 Va bene Va bene Con questo coso sono a posto Raga, andiamoci Andiamo a fare sta taglia Arrivo Stiamo andando? Sì, sì Stiamo molto dietro di te Attenzione Sarà qua sopra Ah, ti vieni Sì, devo farlo Ok Angelo non... No Però non è un individuo troppo No Per la destra Te l'ho proprio papalle papalle No Goal Come goal? Goal della spazio Non c'è nulla che mi sta mal ammettando Però... Dove sta? Ma sei pazzo? All'87 Non c'è una sera sola eh Ahia Mi ha fatto male Me ne vado Arrivederci Arrivo Madonna Mi ha lisciato col cannone supersonic Sono forti Cioè, giocano questi eh Stanno venendo qua da me Ehm, c'è uno che è bassissimo Grande, grande Please help me C'è pure il cannone Lasciami il cannone Sì, sì, sì Tu lasciami il fucilino blu Se non ti dispiace Ok Questo cos'è? Che cosa succede? Perché non riesco a prendere le cose? Ok Io sono messo malissimo Non me ne avevo reso conto C'è un maven viola comunque qua eh Sì, l'abbiamo visto E qua c'è un boomer Anche se dovete fare qualche missione Ah no, io ancora devo parlare di sì Col boomer Ok Va bene Va bene Dai, questi qua Ah, qua c'è la cosa figa Vieni qua Qua c'è la C'è una cosa figa Qua Qua dentro Se c'è un fucile marrone Puoi fare un sacrificio E c'è tutta una missione da fare qua Lascio un blu fritella Oh Eh Rudy Se vuoi c'è un blu fritella qui Sto apposto Ok Mi chavo c'è già stata gente Ok Stiamo combattendo? No Sto un po' gacceggiando Se trovate slurp barrel per favore Credetelo che è un'altra missione che ho Prenditi il cosa? Sì 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 oh Hai preso? No. Vai. Qua sotto, sotto di me. Si, l'ho visto. Io sono qua sopra di me. Arrivo, 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 arrivo. L'ho ucciso. Ok, è morto. Oh, ecco. Ah, fanculo, va. Raga, non sono più in condizioni di combattere io. Eh, qua, ce l'ho qua. Hai preso? Grande. Una strage. Ragazzi, avete una bomboletta? Qualcosa? Sì, io. Ti amo. Dove sei? Qua? C'è una corona a terra, eh? Sì, ce l'abbiamo già, la corona. Sì, ce l'abbiamo già. Ah, quindi strano, vieni. Ah, bravissimo. Cerchiamo bene se hanno robe serie. Ci sono parecchie robe A. C'è una zona, 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 zona. Zon, 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 zon. Ah, c'è chi noggio alla che può trovare l'interga. Ok, un po' del colo. No, non, non. Sì, l'ho qua. da voi scusa la tentazione troppo ragazze scusate è troppo grosso la mia sembra la mia tentazione la capra via andiamoci io e rudin facevo una cosa un po' strana un po' un rituale diciamo non so perché ci è andata così meglio non parlarne più rimanga fra noi devo fare l'isola penso che l'avranno già fatto a quest'ora posso vedere che vedo qualcuno sopra non vedo nessuno ma considerando che sta arrivando la zona magari possiamo provare ad andare a vedere no l'isola non è stata fatta quindi se ne vedete ce lo proviamo a fare però abbiamo cinque secondi poi dobbiamo andare a saltare così almeno per prenderci i zucchini diciamo mamma sta arrivando velocissimo la zona dove saltiamo dopo c'è c'è il jump io prendo i zucchini e vado eh? sì sì pure io tutti i zucchini 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 ma che ansia zucchino eh però fa attenzione che c'è sono qua vai sto andando là ok ah c'è arrivata gente sono lì sì sì si vai là vai là che c'è gente oh l'avessi affigliato una volta mamma mia mamma mia sono un bot ma dove siete ragazzi? là 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 andiamo ringrazio ringrazio adesso dove stiamo andando? and guarda un secondo ma eh io ho tre chiavi se volete allora io potrei prendere potrei prendere volete qualcosa? forse qua lo prendiamo qualcuno lo vuole questo questo è fantastico mi prendo questo ti dirò mi prendo questo mio caro fratello volete questo? vabbè me lo prendo io eh no no però aspetta fermi fermi tutti no ok ho un'altra chiavi ho un'altra chiave vuoi questo rudin questo qua attenzione attenzione dov'è? 26 c'è 126 ok ok morto? no si si morto morto no sotto 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 qua vicino sotto viene sotto viene sotto viene via ok andiamo verso la zona andiamo verso la zona andiamo verso la zona se no ci troviamo svantaggiati cerchiamo di salire questa montagna con la con la con la qui qui io ci sono qui 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 è sicuro ce n'è uno è rimasto solo uno si vabbè probabilmente un bot che morirà in zona attenzione attenzione questo non è un bot il cifra come eccolo ah no vabbè ma deve venire da là allora viene perfetto da là sta morendo in zona poverino l'avete l'hai preso no 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 il lama stavo vedendo quanto quanta vita aveva il lama dove cazzo quanta vita c'è ma adesso così vincemo così si sarà anticlimatica ma chi è andato solo vedi che sarà qua dentro se non è possibile vieni cucciolino ecco l'ho visto è dietro di me sulla montagna dietro gli alberi ho preso gli ho dato 100 non c'è la mattia pot extravaganza easy 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 PC 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 prepariamo o andiamo indietro? andiamo indietro nel tempo ebbos 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 ebbos